Logos Web Radio Ciao a tutti, oggi abbiamo come ospite Deborah Daniele che arriva da Roma per tenere un corso al centro anch'io di Casalecchio di Reno sull'illustrazione sui manga. Deborah è un'illustratrice e insegna storie dell'illustrazione all'Istituto Europeo di Design di Roma. È anche un'autrice di saggi sull'Oriente. Deborah, tu sei venuta qui per fare questo corso sui manga. Come sarà fatto questo corso? Come sarà strutturato? Che cosa insegnerai? Allora, innanzitutto è strutturato in cinque lezioni. Inizierò con una lezione introduttiva dove di base studieremo un po' la storia del manga, da dove proviene, partendo dalle pitture rupestri forse. Proseguiremo esplorando diversi autori e diversi stili di disegno. Dopodiché studieremo proprio la struttura narrativa, come si differenzia la struttura narrativa di un fumetto occidentale rispetto a quella orientale, ma anche come si differenzia la struttura narrativa del fumetto rispetto ad altri media come il cinema o il romanzo. Dopodiché inizieremo a fare degli esercizi di disegno, partendo dalla costruzione da zero di un personaggio, sia a livello psicologico che grafico. Si partirà creando l'universo intorno al personaggio, cercando di renderlo il più credibile possibile. Dopodiché si passerà a fare uno storyboard, da lì si faranno le matite, poi gli inchiostri, poi i colori fino al prodotto finale. Pensavo comunque di far fare una storia breve, di poche pagine e a scelta dello studente. Qualora non avessero un tema preferito lo potrei fornire io tranquillamente. Deda, il tuo corso è rivolto verso ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori. Un ragazzo che è appassionato di disegno, che vuole intraprendere da un lato, approfondire la sua passione, proprio vuole disegnare di più, migliorarsi. Dall'altro vuole anche che diventi una professione. Che cosa deve fare oggi? Innanzitutto la preparazione tecnica di base è fondamentale, perché siamo in un periodo di estrema crisi per il mercato, per cui molti illustratori di professione passano a lavorare come fumettisti. Sono persone estremamente capaci nel disegno, sia a livello anatomico che come stile, sono molto prolifici, hanno una varietà infinita di possibilità, di mezzi, per cui una preparazione di base è fondamentale. Bisogna cercare una scuola adatta, partire dal disegno dal vero, perché disegno è soprattutto sapere osservare. Quindi anche fare gli esercizi più nodiosi come le nature morte aiutano l'occhio dell'artista e aiutano la coordinazione tra l'occhio e la mano. Soprattutto bisogna imparare la prospettiva, perché il disegnatore di fumetti deve sapersi fare anche gli sfondi, che è una cosa che molte persone non amano fare purtroppo, perché è abbastanza tedioso. Vorrebbero tutti disegnare esclusivamente i personaggi. Studiare anche un po' di cinema, le inquadrature, gli storyboard di base per fare delle inquadrature originali. Quindi una scuola di disegno è fondamentale, ce ne sono diverse in tutta Italia. Molte sono specializzate, per esempio l'Istituto Europeo di Milano è molto più specializzato nell'illustrazione rispetto a quello di Roma, dove si fa magari un po' più di animazione volendo. Bisogna informarsi, essere proattivi, cercare su internet le diverse scuole, le diverse accademie d'arte. Fondamentalmente non bisogna mai smettere di disegnare, comprare un bello sketchbook, portarselo sempre dietro. Sketchbook è un quaderno ai fogli bianchi sul quale disegnare quotidianamente, buttare giù tutte le idee che ci vengono in mente. Se vediamo qualcosa di interessante per strada, ti fermi e lo disegni. Percorso che si può intraprendere da giovani, ma poi arrivata a una certa età, a livello universitario è sempre meglio proseguire, proprio andare a scuola, insomma, imparare da professionisti. E se invece qualcuno non è proprio portato per il disegno, ma è appassionato di fumetti, che letture consigli? Perché uno abbia una cultura del fumetto sia a livello nazionale, internazionale, sia a livello internazionale, sia nella storia del fumetto, ma anche delle nuove avanguardie? Non è fondamentale essere dei geni nel disegno delle volte. Basta che la storia che si racconti sia plausibile, vera, che dia delle emozioni di fondo. Prendiamo Marjan Satrapi, l'autrice di Persepolis. Non ha dei disegni realistici o fenomenali, sono piuttosto piatti in bianco e nero. Eppure leggendo Persepolis tutta la storia della sua odissea in Iran e di quello che ha vissuto negli anni, diciamo, bollenti, in cui si è passato dal governo dello Shah a quello dell'Ayatollah e il governo musulmano ha preso il sopravvento. Direi che fondamentali sono le letture di Maus, di Hart Spiegelman, che probabilmente è l'unico fumetto al mondo ad aver mai vinto il premio Pulitzer. Farsi un'idea del fumetto occidentale partirei da Will Eisner, che è da tutti considerato il padre del graphic novel. Non disdegnerei assolutamente i comics americani, anche i supereroi, perché ci sono dei disegnatori fenomenali come Alex Ross. Poi Miller è bravissimo a ricreare anche personaggi che sono già nati in precedenza. Lui era inventato Batman, volendo. Sul fumetto orientale mi getterei proprio a pesce, diciamo. Su Osamu Tezuka che è considerato il dio dei manga. Ha inventato il fumetto, non le comic strip, ma proprio il fumetto che continua, episodio dopo episodio, andando avanti per volumi. Oggi come oggi uno che legge un manga è abituato a leggere anche 50 volumi di uno stesso fumetto che prosegue per anni. Ecco, questa cosa l'ha inventata lui. All'inizio gli davano del pazzo. Dicevano chi vorrà mai leggere una cosa oltre la pagina. Invece lui si inventò questo Isola del Tesoro, che era un volume intero. Dovevano aspettare i vari episodi un mese dopo mese, dopo mese, leggerlo in rivista. Ha inventato il fumetto per ragazze e ha anche portato a livelli veramente alti il Gekiga, che sarebbe il fumetto più realistico, con storie anche abbastanza forti, diciamo. Autori italiani? Autori italiani ce ne sono tantissimi, oltre a topi. Buttiamoci sulla nostra storia partendo dal Corriere dei Piccoli. C'è una mostra bellissima sul Corriere Piccoli al momento a Milano, che va assolutamente vista, perché è partito quasi tutto dal Corriere dei Piccoli e anche dai primi fumetti di Topolino, se vogliamo. Insomma, Romano Scarpa ha inventato qualcosa di estremamente diverso rispetto alle storie di Topolino e Paperino che sono state pubblicate in America. Poi, ovviamente, l'Avanguardia, gli ultimi volume pubblicati da Coconino, o 5 il numero perfetto, i fumetti di Gipi, sono bellissimi, bellissimi. Io so anche che tu sei una grande appassionata di Oriente. Sì, è vero. E sei una grande collezionista. Sì. Gli oggetti molto particolari che sono i Gashapon. Tu hai scritto un libro su questo argomento che è anche stato presentato a Casa Lecchio, l'ultima edizione di Casa Comix, a settembre del 2008. Che cosa sono i Gashapon? Avete presente quei distributori piccolini gialli che trovate davanti al bar? Mettete dentro la monetina ed esce una pallina di plastica colorata. Quello è un distributore di Gashapon. Il Gashapon è il giocattolino che si trova all'interno della pallina. Uno mette la monetina, la macchinetta fa Gasha, Gasha, Pon e cade la pallina. Da lì viene il nome di Gashapon. Ovviamente Gashapon sono nati negli anni 70 come sorpresine per bambini, ma poi si sono evoluti negli anni 80 grazie anche a Gundam, ai primi cartoni animati, alle prime serie robotiche. Si sono anche espansi in dimensione perché vanno dalle mini palline alle quali siamo abituati noi fino a quelle dal diametro di 7 cm con dentro questi giocattolini imbustati in pezzi che poi vanno montati e messi insieme tipo le sorpresine Kinder. Quindi il mercato si è espanso negli anni 80 e 90 e ha raggiunto l'Occidente in generale perché anche gli Stati Uniti sono stati invasi verso la fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000. E quindi al momento esistono diverse case che producono questi Gashapon. Sono acquistabili online, in negozi specializzati, sono una vera e propria mania e portano al collezionismo perché ti innamori appena li vedi. Rappresentano personaggi di cartoni animati famosi come Aili, quindi diciamo che c'è un regresso all'infanzia anche collegato alla cosa. Va bene, allora per saperne un po' di più leggeremo il tuo libro che si intitola? Gashapon Hunter. Ti ringraziamo Deda e in bocca al lupo a tutti i futuri fumettisti di Casalecchio di Reno e gli ascoltatori del Blogos. Un saluto da Sara Carboni, Blogos Web Radio www.blogos.it